Una manovrina da un miliardo e sei per riportare in linea o sotto al 3% i nostri conti pubblici. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri un intervento corposo capace di rassicurare l'Unione Europea sulle capacità dell'Italia di mantenere le promesse. Si parte da possibili tagli alla spesa pubblica ma soprattutto dalla cessione di circa 250 immobili individuati dal demanio. Cessioni già messe in cantiere nel famoso Consiglio dei Ministri saltato per la crisi di governo. Nel testo del decreto legge in esame ci sarebbe anche la possibilità di un rincaro dei carburanti anche se il Ministro per rapporti con il Parlamento Franceschini smentisce ogni intervento sulla benzina. Più probabile invece un nuovo aumento per gli acconti IRPEF e IRAP. Il governo invece è pronto a destinare circa 330 milioni di euro per il rifinanziamento della Cassa Integrazione Inderoga e almeno 35 milioni per la carta acquisti, la cosiddetta social card. Inoltre dovrebbero arrivare 120 milioni in più sul fondo di solidarietà comunale per assicurare il mancato introito ai comuni del gettito IMU. L'abbassamento del cuneo fiscale, ossia la differenza tra il costo del lavoro e la retribuzione che arriva nelle tasche dei lavoratori, sarà invece materia della legge di stabilità. Il governo ha già avviato il confronto con le parti sociali per un'operazione da circa 5 miliardi di euro.